Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove si segnala un restringimento di carreggiata tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata a causa di lavori tra San Casciano Nord e Impruneta, sempre in direzione Firenze. Uno sguardo alla statale 12 della vetrone del Brennero è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano all'altezza del chilometro 44 a causa di una frana. Anche sulla statale 64 a causa di una frana ha chiuso il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina in prossimità del confine con l'Emilia. Treni, l'Intercity 590 Napoli-Milano viaggia con 76 minuti di ritardo, ferma a Firenze di Fredia alle 16.52. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!